Radioattività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Voi che seguite i miei interventi su Radio Radio sapete che sono avvezzo fare previsioni che non coincidono certamente con quelle proprie dei profeti, ma che semplicemente sono frutto di un'analisi che interpretando la realtà e le possibilità in essa racchiuse legge poi le tendenze che puntualmente vanno a svilupparsi. Più che un profeta, forse, è il modus operandi del rabdomante che coglie nella realtà possibili linee di sviluppo. E proprio come nell'aprile del 2020 colsi le linee di sviluppo che avrebbero portato alla pandemia del rocchetto o dello yo-yo, composta dall'alternarsi di fase 1 e di fase 2, adesso provo a leggere un'altra linea di tendenza che vedo possibile nel mondo di cui siamo abitatori e che anzi, mi pare molto probabile, diverrà parte integrante della realtà stessa. In sostanza, non è difficile a mio giudizio prevedere come presto gli armigeri del nuovo leviatano tecno-sanitario o capitalismo terapeutico che dir si voglia diminuiranno la durata della superinfame tessera verde per i guariti nella prospettiva di non dargliela più affatto. Già in Germania, come sappiamo, è stata notevolmente abbassata la durata della superinfame tessera verde che essi pudicamente appellano Green Pass per coloro i quali l'hanno ottenuta non mediante la benedizione col Santissimo Siero, bensì in forza della guarigione. Il guarito, in effetti, è a suo modo un eretico, da che non è benedetto col Santissimo Siero sempre laudando in secula seculorum e può non di meno beneficiare, sia pure a tempo determinato, di quei diritti che il nuovo leviatano tecno-sanitario vuole rendere fruibili unicamente per quanti abbiano giurato fedeltà al leviatano tecno-sanitario stesso e segnatamente si siano benedetti con il sacramento più importante della religione terapeutica, vale a dire il Santissimo Siero. Ebbene, il guarito è una figura anfibia, possiamo dire così, da che per un verso ha attraversato la malattia e dunque rientra a pieno titolo nella nuova figura del capitalismo terapeutico, il malato che è sempre degno di essere curato. Per un altro verso, tuttavia, egli si è sottratto al sacramento della benedizione col Santissimo Siero e dunque è in odore di eresia. Ecco perché non è difficile prevedere, come dicevo poc'anzi, il fatto che presto verrà diminuita la durata della superinfame tessera verde per i guariti e in prospettiva non sarà più rilasciata loro, da che anch'essi dovranno, anche se guariti, benedirsi il prima possibile. Il regime del capitalismo terapeutico, infatti, si basa, come più volte abbiamo ricordato, sulla mutazione di tutti i sani e malati. E se tutti siamo malati in quanto potenziali malati asintomatici, allora tutti dobbiamo essere curati sempre da capo. Anche coloro i quali siano guariti debbono comunque essere curati e quindi debbono permanere nell'ambito dei malati. Ecco perché il nuovo capitalismo terapeutico si fonda sulla medicalizzazione integrale della società, come la chiamava Ivan Illich, e a sua volta si fonda sulla mutazione dei sani e malati. La strategia, nemmeno obliqua, del capitalismo terapeutico sta, infatti, nel trasformare i sani in malati per poterli trattare come malati e quindi curare, con il profitto evidente dei colossi del Big Pharma e con la riduzione stessa della società al rango di una megaclinica dove non esistono più cittadini e cittadini, ma solo malati, sottoposti alle cure autoritarie e repressive dei medici, presentate ogni volta come cure terapeutiche e sempre di nuovo risolventisi in misure repressive e autoritarie, coessenziali alla svolta autoritaria in corso del nuovo capitalismo basato sull'emergenza perpetua come modalità di governo.